Benvenuti a voi che siete a casa perché guardate chi ha scelto Campo Rotondo di Fiostrone, come si diverte, sono tantissimi, come sempre ogni anno non mancano l'appuntamento con questo angolo, io lo ricordo, in ogni occasione, ogni volta che registriamo in questo territorio, davvero qui si respira ancora l'aria che conoscevamo tanti anni fa, dove l'ambiente è naturale, dove si accontenta, con la natura e dove se si vuole mangiare bene c'è una garanzia di riuscita, li avete riconosciuti? Sono due volti non noti, di più, Barbara e C, eccoli, Giorgio alla fisarmonica e lei, Barbara, questa voce che è una voce importante da quando era una ragazzina, Oramai devo dire Barbara ha superato di qualche mese i 20 anni ed è sempre più brava, complimenti, vi do subito il numero per raggiungere questi due giovanotti, 333 27 18 917, anche perché so che sono molto impegnati, fra tantissime altre cose, nel lavoro di una loro ultima incisione, a primavera uscirà, potremo usufruirne, ma in questi mesi stanno lavorando per incidere i brani, come sapete Giorgio che è anche compositore, insieme a grandi collaborazioni con altre orchestre, nazionali e non solo, ha sicuramente realizzato buona parte dei brani che andremo ad ascoltare in questo lavoro. Io amo sempre presentare questi ragazzi come dei veri e propri professionisti, dovete sapere che seppur sono ancora molto giovani, hanno alle spalle una lunga gavetta che non arriva soltanto dalla nostra regione, ma anche da quei territori che sono deputati a questo genere musicale. bravi, bravi